L'Aquila oggi è come Bergamo a primavera e questa è l'inquietante similitudine del presidente della regione Marco Marsilio che paragona il capoluogo abruzzese a una delle zone più tragicamente colpite dal virus in Italia. Ovviamente i numeri sono diversi e si tratta di realtà distanti ma la provincia aquilana in questo momento è quella più attenzionata per quanto riguarda il propagarsi del covid. La situazione è critica ma non è come quella di Bergamo nei numeri intendo anche perché le dimensioni sono assolutamente diverse. Io ho parlato con il presidente come mi accade praticamente tutti i giorni e ci siamo confrontati anche su questo perché voleva dire che l'Aquila oggi è l'epicentro, utilizziamo questo termine così familiare, di questa fase emergenziale esattamente come Bergamo lo è stata nella prima ondata per la Lombardia in generale per l'Italia. Intanto bisognerebbe confrontare i numeri in maniera corretta, nel senso che noi oggi sappiamo quanti sono i giorni positivi all'Aquila, in provincia dell'Aquila, ma non sappiamo ancora sul numero di tamponi perché c'è un numero consistente di persone che va a fare i test presso il laboratorio accreditato di Dante Labs che si trova proprio nella città dell'Aquila. Molti enti hanno fatto convenzioni con loro, alcuni comuni hanno fatto delle convenzioni con loro, quindi bisognerebbe mettere a raffronto il numero dei positivi con il numero dei tamponi effettuati perché questo ci darebbe in maniera corretta il dato. Credo che il dato sia così importante perché non si è riuscita a circoscrivere immediatamente la propagazione del virus perché facciamo pochi tamponi dal punto di vista delle istituzioni pubbliche, sanitarie pubbliche rispetto a quelli che servirebbero, li facciamo con referti che arrivano troppo tardi, questa è una refertazione che va fatta entro le 24 ore, altrimenti si rischia di renderla o inefficace o tardiva, non possiamo permetterci di avere insegnanti, ragazzini, infermieri, operatori sociosanitari, addetti dell'RSA che rimangono positivi senza saperlo per 3, 4, 5 giorni. Diventano bombe ad orologeria piazzate nei luoghi più sensibili e quindi di moltiplicare i punti di contagio. E' proprio perché la provincia aquilana è ora quella maggiormente afflitta dal virus, il centro-sinistra punta il dito su come l'ASL abbia gestito l'emergenza chiedendone il commissariamento. Non esiste alcuna norma che consenta di commissariare delle ASL e il commissario dovrebbe essere scelto dove, con quali poteri, con quale mandato, per fare cosa, in assenza di una norma. E poi i cambiamenti non si fanno mai nel corso dell'emergenza, si fanno semmai prima o dopo per prepararsi la verifica delle responsabilità, se le cose dovessero andare male. Si fa sempre a consuntivo, mai in corso d'opera. Poi chiedo a tutti quelli che oggi invocano cambiamenti così draconiani, cosa abbiano fatto in passato? Dove erano quando la sanità territoriale veniva disarticolata, veniva smembrata, quando si facevano i tagli dai posti letto, quando si riducevano i numeri degli specializzanti nelle scuole di specializzazione più importanti. Urgono misure per salvare l'economia, ha detto il sindaco Biondi, è tempo di mettere da parte le ostilità locali. Alla regione chiedo di fare quello che sta facendo, di farsi parte attiva presso il governo per chiedere interventi risolutivi in favore dell'economia, perché poi l'epidemia va vista a 360 gradi nei suoi effetti economici, nei suoi effetti sociali, nei suoi effetti di tenuta della comunità, non soltanto nei suoi effetti sanitari, che pure naturalmente in questa fase sono prioritari. Quindi chiedo di mantenere una compattezza istituzionale che è l'unica che ci consente di portare avanti con concretezza la gestione dell'emergenza. Non si tratta di trasversalismi o di inciuci, si tratta di mettere da parte le ostilità locali per un interesse superiore.